Tutti in campo i rossoneri in vista del big match di campionato contro il Napoli, capolista. Agli ordini di mister Pioli, allenamento mattutino a Milanello, il primo, a ranghi completi, con rientro di tutti. I nazionali iniziano in palestra per l'attivazione muscolare, poi subito in campo con esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni, poi esercitazione tecnica e tattica, partitella a campo ridotta per concludere la sessione. Tegola Ibrahimovic, tornato dalla Svezia con il problema muscolare, alla coscia. Già erano KO, Kalulu e Messias. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!